La Giunta Comunale di Fanno sta investendo sul centro storico per riqualificarlo, ma senza ripetere l'errore che è stato commesso in passato, ha specificato il Sindaco Serie, cioè quello di focalizzarsi solo su alcuni luoghi. Grazie ai fondi europei del progetto integrato ITI saranno disponibili circa 2 milioni e mezzo di euro. In parte verranno destinati a Sant'Arcangelo, dove l'amministrazione è in progetto, nella parte dell'ex casa di riposo, una struttura ricettiva invece per giovani. Verrà realizzato quindi un ostello dedicato agli studenti universitari e non solo. Verranno riqualificati inoltre il museo, la Corte Malatestiane e la Rocca, dove ieri l'assessore Marchegiani ha fatto un ulteriore sopralluogo per valutare un'uscita di sicurezza. Ma anche i Giardini Leopardi e il Teatro Romano. Seri inoltre ha raccolto suggerimenti dal comitato Apriamo il Centro, durante un incontro definito da lui positivo e costruttivo. Decisi comunque a confermare il corteo di protesta in programma per lunedì prossimo. Invece sono gli stessi commercianti che vogliono continuare a spronare l'amministrazione ad un confronto costante. Il primo cittadino poi questa mattina ha annunciato sia un intervento di bonifica di amianto in città per un importo complessivo superiore ad un milione di euro, sia la semplificazione della burocrazia interna, modificando dove possibile i regolamenti comunali. La vera rivoluzione è proprio questa. Dal 1 settembre al 15 ottobre ci sono andato 45 giorni in tempo per incontrare tutti i portatori di interesse della città, quindi dalle associazioni di categoria, alle associazioni, agli ordini, per capire dal loro punto di vista quelle che sono le cose che non funzionano, quelle che sono gli ostacoli che il cittadino, nelle varie forme o imprenditore, incontra con l'amministrazione. Per poi mettere in mano, per semplificare le procedure interne, quindi mettere in mano a tutti i regolamenti e anche i rapporti interni degli uffici che si accompagnano anche con la rironizzazione che da settembre verrà fatta. Ma non è finita qui perché Massimo Seri ha annunciato anche un'ordinanza di deroga per innalzare i decibel previsti da regolamento in occasioni di feste e concerti già in programma o che verranno segnalati fino al mese di agosto. D'altronde l'estate si vive anche di questo, le belle serate calde come queste, la gente magari fa una passeggiata e delle animazioni musicali piacevoli non si possono impedire. Ovviamente tutto nell'equilibrio e nella sostenibilità per chi vive da turista, chi è residente, come avviene nelle altre età. In conclusione ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa rispondendo a coloro che ultimamente li hanno rimproverati di essere una giunta immobile e succube dei pesaresi. Abbiamo parlato poco ma lavorato molto, ha detto Seri, a dimostrazione del fatto che dal nostro insediamento fino al 31-12 dell'anno in corso abbiamo investito ben 15 milioni di euro in opere e interventi a partire dai 500 mila euro per il rio Crinaccio, ai 3 milioni per le scogliere, più un milione per portare gli scormatori a largo, inoltre 900 mila euro per la strada delle barche che abbiamo recuperato noi specifica, 800 mila euro per il dragaggio del porto, la stessa cifra per le asfaltature e per la scuola elementare di Cucurano Carrara, 400 mila euro per il Sant'Arcangelo e 2 milioni e 700 mila per l'impianto di cremazione al cimitero dell'Ulivo. Queste non sono favole, sono numeri scritti, segnati, affidati, quindi se questo è un'amministrazione immobile, viva Dio, anzi faccio invito a una sfida, pensiamo a cosa è stato fatto negli ultimi 5 anni, non so se nei 5 anni quello che è stato fatto supera quello che è stato fatto in questo anno, allora cominceremo a raccontarlo, cominceremo a andare tra la gente, a spiegare, a far vedere con numeri alla mano e atti amministrativi alla mano perché poi al di là delle chiacchiere le cose che contano sono queste.